Le borse europee dopo i nuovi massimi aggiornati ieri chiudono poco mosso e una seduta vissuta in attesa delle decisioni e soprattutto di segnali da parte della Federal Reserve dopo il rallentamento dell'economia statunitense nel primo trimestre dell'anno. Le principali piazze finanziarie del vecchio continente chiudono sulla parità con Milano in rialzo dello 0,13%. A piazza affari bene i bancari con unicredit in rialzo di quasi due punti percentuali, mentre gli analisti sono ottimisti sull'andamento del gruppo nei primi tre mesi. Positive Banco, BPM e Generali, Fiat Chrysler e Terna. La maglia nera nel listino va a Mediaset mentre cedono oltre un punto percentuale STM, Leonardo e Tenaris.